Quello di oggi è un grido di dolore della signora Isabella, la sorella di Anna, perché a distanza di oltre un anno è uscita fuori la verità, quella verità che voi avevate già rivelato in pratica poche ore dopo il ritrovamento di Anna sotto questo tunnel irriconoscibile, avevate detto non è un suicidio. Non è un suicidio, mia sorella non voleva morire, mia sorella è stata portata alla morte abusata, fatta bere per poi morire, per poi essere lasciata morire. Anna viveva con me, non era conosciuta qui sotto questo tunnel, la ragazza soffriva di disturbi psittici, ogni tanto si allontanava da casa ma è stata sempre ritrovata dalle forze dell'ordine che io comunque contattavo appena lei si allontanava. Una ragazza che ha sempre sofferto, abbiamo sofferto per la famiglia, io ho cercato di fare tutto per lei sapendo anche che gestirla con queste problematiche per me non è stato facile. Volete anche precisare che lei non era assolutamente una frequentatrice qui della zona della stazione? Assolutamente no, lei si allontanava da casa, si faceva la sua passeggiata o si recava in ospedale e comunque veniva sempre ritrovata, si faceva ritrovare lei, io mi chiamavo e io la sono andata sempre a riprendere. Isabella, la sorella ma anche gli altri parenti prossimi hanno sempre sostenuto a gran voce il fatto che non tratta così di ipotesi di suicidio, bensì era un'ipotesi di omicidio. Erano tanti elementi che nell'ambito familiare propendevano per questa cosa e l'abbiamo sempre rivendicata con forza. Chiaramente al momento dello svolgimento dei primi accertamenti di atti ripetibili vi era anche l'iscrizione di una persona di nazionalità rumena. Oggi, anzi ieri, apprendiamo con molta clamore che assolutamente vi sono due persone iscritte nel registro degli indagati. Abbiamo acquisito insomma della documentazione che attesta l'ingresso di Anna a distanza di un paio di ore dall'allontanamento dalla casa e il transito presso il presidio del pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara. Di lì poi è inviata il reparto di psichiatria. Dalle reparto di psichiatria è rimandata al pronto soccorso con l'esplessa indicazione che doveva essere avvisata la sorella in qualità di tutrice. La sorella ha saputo, insomma, soltanto l'indomani quando l'adulto è stata costretta. Insomma, sono stati avvisati e hanno provveduto a fare il riconoscimento cadaverico. Vedo mia sorella avvolta tra le coperte, seminuda, irriconoscibile. Un dolore straziante che io ancora non mi riesco a dare pace perché lei era il mio tutto.